Musica Minacce di morte per il Presidente dell'Ataf a Foggia Ferrantino Due necrologi sono stati ritrovati nella serata di Meditarda al rientro del Presidente e sono datati il 17 maggio nella giornata di martedì e il 18 vicino alla sede dell'azienda di trasporto pubblico Non è la prima volta che Ferrantino è stato destinatario di atti intimidatori La tensione all'interno dell'azienda urbana di Foggia si taglia a fettine e a deprese con una drammatica crisi finanziaria Mercoledì è in programma il Consiglio di amministrazione della società che ha convocato i sindacati per l'ultimo tavolo di confronto Sul posto sono giunti gli inquirenti della Polizia per i rilievi e probabilmente un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere delle attività commerciali ubicati nel quartiere dove abita il Presidente dell'Ataf Mimmo Siena, Speciale News Emergono ancora inquietanti e particolari sul falso allarme avvenuto domenica scorsa a Lola Trafford di Manchester poco prima dell'inizio della partita di calcio tra il Manchester United e il Borsemont valida per la Premier League inglese Dopo la mezza emissione totale anche nelle ultime ore dei responsabili della Polizia Britannica è arrivata anche la responsabilità diretta del capo della società di sicurezza che si dice sconvolto da quanto è avvenuto ed ha ammesso di aver lasciato domenica un certo numero di oggetti dopo una simulazione anti-terrorismo avvenuta a meno di una settimana fa fra cui anche la finta bomba artigianale che è stata trovata in un bagno degli uomini intanto sconcerto in tutto il mondo per questo ennesimo episodio che ha dimostrato come la falla della sicurezza della Polizia inglese è stata ben evidente e anche in vista dei prossimi europei di Francia che cominceranno il 10 giugno Mimmo Siena, Speciale News Grande attesa al Palla Castellana di San Severo per la seconda partita dei quarti di finale della promozione in Serie A2 in cui è impegnata la cestistica San Severo la formazione giallonera allenata da Piero Cohen affronterà in gara 2 la formazione abruzzese della Maturi Pescara nella prima gara disputata in casa sabato scorso i gialloneri hanno vinto con il punteggio di 74 a 42 la partita è molto temuta sabato scorso e lo è anche nella serata di martedì considerando che gli abruzzesi faranno di tutto per cercare di mandarla alla eventuale bella in programma in terra abruzzese nel weekend ricordiamo che la partita di sabato scorso è stata molto ben giocata dalla formazione sanseverese sia per la qualità della difesa che anche per l'attacco che è stato abbastanza prolifico tutti in un campo a partire dalle 21.15 Mimmo Siena, Speciale News Mimmo Siena, Speciale News Mimmo Siena, Speciale News